Dopo aver praticamente chiuso gli ingaggi del centrocampista Madio e dei difensori per Rotta, Martella e Ferretti, il Teramo sta per mettere a segno dei colpi in fase d'attacco. Sono ad un passo infatti gli arrivi del 22enne Francesco Nicastro dal Rimini e del 23enne Alfredo Donnarumma dal Cittadella. Quest'ultimo, già costato ai biancorossi un mese fa, ha militato per un breve periodo anche nel Lanciano in C1, nella seconda parte della stagione 2011-2012. Donnarumma, originario di Torre Annunziata, ha le caratteristiche per giocare sia ad attaccante centrale che in appoggio alla prima punta. Nicastro, invece, è dotato di ottima tecnica e sa svariare su tutto il fronte d'attacco. Oltre a Donnarumma e Nicastro, comunque, il DS Marcello Di Giuseppe segue con attenzione anche altri nomi per rinforzare il reparto avanzato. Per quanto riguarda il terzino destro, Joao Ferretti, ventenne italo-francese di proprietà del Milan, c'è da registrare nelle ultime ore anche l'inserimento della SPAL. Il Teramo però è in posizione di vantaggio e conta di annunciare la firma del giocatore entro pochi giorni. Nessuna novità al momento per il ruolo del portiere. In attesa di parlare con il Milan per decidere il futuro di Davide Narduzzo, lo staff tecnico biancorosto sta valutando se affidare l'eredità di Serra Iocco ad un under o se puntare su un elemento più esperto. In casa L'Aquila, invece, il DS Di Nicola sta intensificando i contatti per centrare due colpi importanti, uno in attacco e uno a centrocampo. Per il ruolo di punta, di peso ed esperienza, il sogno è sempre quel Daniel Ciofani, fresco di promozione in Serie B con il Frosinone. L'operazione però è a dir poco proibitiva, soprattutto per la volontà del giocatore di non scendere di nuovo in Lega Pro. Ma dalla ciociaria potrebbe comunque arrivare uno dei protagonisti della vittoria dei play-off, l'ala centrocampista Andrea Gessa, classe 80, con diverse stagioni in Serie B con le maglie di Grosseto e Pescara. Sempre a centrocampo l'obiettivo resta Gennaro Esposito, di proprietà del Verona. L'operazione potrebbe chiudersi nelle prossime settimane con una richiesta di prestito, con l'opzione di riscatto a fine stagione. Per quanto concerne il reparto difensivo a meno di colpi di scena, il capitano Marco Pomante dovrebbe restare nonostante le sirene del Matera. Con lui ci sarà anche Gianmarco Ingrosso, a cui però ancora non è stato proposto il rinnovo del contratto. Nell'ultime ore invece appare meno scontata la permanenza di Andrea Zaffanini, che dopo l'interessamento dell'Avellino ad inizio giugno è stato messo sotto osservazione da un altro club di Serie B, il Cittadella. In uscita intanto potrebbe essere piazzato nelle prossime ore anche l'attaccante Nicola Ciotola, appena rientrato dal prestito in Sardegna alla Torres. Per il talento campano classe 84 si è fatto avanti il Pisa di Braglia.